Torniamo a parlare di mobilità 2020-2021, lo facciamo in riferimento ai vincoli triennali e quinquennali di quei docenti che non potranno presentare istanza di mobilità. Chi sono questi docenti? Innanzitutto ci sono quei docenti che già dalla mobilità 2019-2020 sono stati soddisfatti in una sede scolastica, cioè hanno scelto in preferenza una sede di scuola, hanno ottenuto il trasferimento in tale scuola, sono rimasti vincolati per tre anni in quella scuola di titolarità e non potranno presentare domanda né di mobilità né tantomeno di mobilità professionale, cioè passaggio di catero, passaggio di ruolo. Questo ha i sensi dell'articolo 22,4 lettera A del contratto collettivo nazionale di istruzione. Esiste questo vincolo e questi saranno vincolati. Altri docenti che sono vincolati sono i docenti messi in ruolo della scuola secondaria, messi in ruolo col concorso straordinario. Per l'articolo 13,3 del decreto legislativo 59 del 2017, questi docenti sono vincolati per cinque anni a rimanere titolari nella scuola e nella classe di concorso in cui sono entrati in ruolo, per cui questi docenti non potranno fare domanda di mobilità. Anche i docenti di sostegno che si trovano dentro il quinquennio sono vincolati a possono fare la domanda di mobilità, ma sempre sul sostegno, non possono richiedere mobilità su classe di concorso. Per quanto riguarda invece la mobilità triennale di cui dicevo prima, cioè di quei docenti che hanno avuto mobilità in una scuola, sono fatti salvi i docenti che beneficiano dell'articolo 13, cioè che hanno una 104, devono assistere un genitore costoro. Se hanno avuto la mobilità su scuola che non ricade nel comune in cui devono prestare assistenza o per cui beneficiano comunque della precedenza, questi sono svincolati e potranno fare domanda di mobilità. I beneficiari di legge 104 che invece hanno avuto trasferimento già l'anno scorso su una scuola nel comune in cui beneficiano della precedenza, questi saranno ancora bloccati. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube, seguiteci nel nostro sito www.technicalscuola.it e anche nei canali social come Facebook e Instagram. Vi saluto, arrivederci.